5 candidati alla segretaria della Lega, come vede il percorso di questo mese? Si invocava un candidato unitario ma al momento non c'è. Sì, ma noi non è che facciamo giochini o cose a tavolino, ad ufficio o nel retro bottega di qualche ufficio strano. Daremo il voto a tutti i militanti, la Lega si esprimerà con l'elezione diretta. Ci sono tanti candidati, bene, è un segno di democrazia. Adesso dovranno raccogliere le firme questi 5, però non ci sarà da parte mia, da parte della segreteria, non ci sarà nessuna operazione strana per non far presentare qualcuno, per far vincere qualcun altro. Quindi vedremo, penso che la Lega sia matura, la base sia matura per scegliere il candidato giusto. Per quanto mi riguarda è un candidato che, mi sono già espresso su questo, che deve rappresentare il futuro. della Lega, il brillante futuro della Lega, il brillante futuro che la Lega ha di fronte a sé. E quindi ho già espresso la mia indicazione, la mia preferenza per Matteo Salvini. Sono lieto che ci sia candidato e spero che lui sia quello che la base indicherà.